Fumare fa male, lo abbiamo sentito dire migliaia di volte e lo vediamo raffigurato su tutti i pacchetti di sigarette. Nonostante questo l'abitudine tabagica è ancora estremamente diffusa e rappresenta una vera e propria dipendenza da cui può risultare molto difficile uscire. Ma quali sono i reali rischi del fumo e come prevenirli? E come possiamo affrontare la dipendenza? Sappiamo che il fumo di sigaretta rappresenta la principale causa di tumore prevenibile. Inoltre è associato a danni polmonari con aumento dello sviluppo di malattie polmonari croniche come per esempio la bronchite cronica ostruttiva chiamata BPCO. Ma il fumo è dannoso anche per il nostro cuore e i vasi sanguigni tanto che porta a un'aumentata incidenza di infarto e di ictus. Ma forse non tutti sanno che il fumo di sigaretta è associato anche a danni estetici contribuendo all'invecchiamento precoce della pelle, alla perdita dei capelli e all'ingiallimento dei denti e in alcuni casi è associato anche ad impotenza, menopausa precoce e infertilità. Estremamente dannoso è anche il fumo passivo ovvero il fumo che viene inalato da un soggetto che non fuma ma che si trova nelle vicinanze di un fumatore. Spesso le persone più colpite dal fumo passivo sono i bambini che possono sviluppare patologie respiratorie o disturbi di apprendimento se vivono in casa con fumatori attivi. Ricordiamo anche i danni del fumo in gravidanza sia per la madre che può andare incontro ad aborto o a parto prematuro sia per il bambino che può sviluppare patologie respiratorie ma che è anche un aumentato rischio di morte in culla. Infine anche la sigaretta elettronica non è priva di rischi e non abbiamo ancora oggi dati riguardanti la sicurezza delle sostanze usate per aromatizzare l'aerosol. Ma come possiamo prevenire tutti questi rischi? Sicuramente non iniziando a fumare. Pensate che il 70% dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni di età ma la buona notizia è che gli effetti dannosi sul sistema cardiovascolare cessano poco dopo che smettiamo di fumare. Smettere di fumare sicuramente è molto difficile ma non impossibile. La sigaretta per il fumatore rappresenta un momento di piacere ma che crea una vera e propria dipendenza. Per questo esistono dei programmi di supporto, terapie farmacologiche e psicologiche proprio perché il fumatore avverte il terrore di non riuscire a gestire l'astinenza dalla sigaretta. Non mandare in fumo la sua vita è quella di chi ti sta vicino. Smettere di fumare è un investimento importante per la nostra vita e anche oggi può essere un nuovo inizio per ricominciare.